ciao a tutti i dream like moon vital benvenuto a nuovo episodio di oasi innevata la nostra misaki è qui con il suo migliore amico ormai kiyoshi perché non appena tornata a casa dalla disavventura che abbiamo visto la volta scorsa con akira lui si è presentato a casa sua con un regalo peccato che avevo già terminato la registrazione però vabbè sono diventati buoni amici e come potete vedere appunto gli ha portato un regalo però ora che è qui le ha chiesto ti dispiacerebbe se facessi una pausa come è andata la tua giornata insomma kiyoshi vuole parlare ma cos'è sta cosa delle aspirazioni vitalizie non lo voglio sapere non mi interessa non ho bisogno del tutorial basta vabbè e sì misaki felicissima lui ancora di più praticamente le ha regalato un pacchetto di piante rare di semi di piante rare per cui io pensavo che potrebbe coltivare aprire queste piante rare coltivarle e poi piantare in cima al monte comorebbe una volta che ci saremo giunti un fiore di queste piante rare per cui apri un pacchetto di semi sai mi trasferirei qui a casa tua ma va non si capiva kiyoshi che ti piacerebbe abbiamo l'uccello del paradiso e basta due uccelli del paradiso va bene guardate lui che è cotto sì l'alternativa era far crescere lui e usarlo come partner voi che ne pensate fatemelo sapere nei commenti perché eventualmente romperemo con Akira se secondo voi è il caso di farlo faremo crescere kiyoshi e ci metteremo con lui che è molto meglio di Akira almeno lui non scappa anzi anzi tra l'altro è avventuroso per cui va d'accordo con misaki come abbiamo visto ed è romantico cioè un cucciolone un cucciolone ha ammesso che gli piacciono le donne perché potrebbe anche essere quello insomma non gli si può chiedere perché meno fiducia tesoro cosa gli hai detto vabbè è anche il giorno della nuova abilità che noi non abbiamo completato quindi direi che kiyoshi abbiamo cenato insieme per cui grazie io dovrei lavorare adesso per cui ci vediamo prossimamente abbiamo due video ah già giusto questi li abbiamo già fatti e vabbè studia le tendenze e magari ci concentreremo su questo perché altrimenti non riusciamo a completare il giorno della nuova abilità per cui io direi che ci vediamo cioè farò video a caso giusto per farle acquisire un nuovo punto di questa abilità e anche per tirare su un po' di soldi vuole diventare amica con Shigeru e poi domani vediamo che cosa fare esattamente perché io volevo completare questo non l'abbiamo fatto per cui vediamo di completare questo step della sua aspirazione e andare avanti perché la volta scorsa non abbiamo avuto nessun progresso Akira stavo pensando di approfondire un po' la conoscenza di Ukupanipo ah è un'amicizia sì provaci perché tanto tra un po' sarei di nuovo single temo temo comunque buongiorno la nostra Misaki si è svegliata da poco e infatti è tardissimo è rimasta sveglia fino oltre le due però non sono riuscita a farle conquistare un punticino di produzione mediale ma vabbè ci proveremo adesso abbiamo appena ricevuto 1400 simoleon di diritti d'autore sui video facciamo una doccia e poi io pensavo di fai una doccia rilassante sì e poi pensavo di andare sulle piste guardate cosa mi ha espresso il desiderio di chiacchierare con Kiyoshi quindi andremo sulle piste anzi andremo più che sulle piste ad arrampicarci sulla parete quella media ma io pensavo di apportare un po' di di modifiche al club e di allora togliamo un po' di gente Shigeru mi sembra abbastanza fuori di testa Kado non ci interessa possiamo ottenere Megumi Kaori Kiyoshi e Misaki e facciamo solo arrampicata sì però possiamo anche aggiungere eventualmente il Shii no però l'avevo già tolto la volta scorsa niente intanto restiamo così vediamo se gli altri vengono con noi perché non essendoci abbastanza spazi sulla parete magari non vengono tutti ad arrampicarsi oppure oppure vanno tutti a quella bassa noi proviamo quella media Kiyoshi? ancora? stai venendo qua? G-stalker a Kiyoshi è una cosa allucinante è ridicolo vabbè mettiti gli abiti per andare ad arrampicarti per cui clima freddo se carica grazie mettiamo no questi sono più da sci mettiamo questi vai qui e vediamo cosa cosa vuole Kiyoshi oh c'è vento oggi beh forse nell'altro quartiere non c'è vento sarà meno ventoso boh vediamo buongiorno non andare lì ciao è qua fuori Kiyoshi invita a entrare ma non dovresti essere a scuola tu stamattina tra l'altro vabbè Kiyoshi che bella sorpresa andiamo a farci una arrampicatina io e te ti va? beh beh possiamo provare io e lui posta ci sono già le bollette ok ma così tanto? cos'è che spendiamo? tantissimo in elettricità acqua meno uno ah tasse sull'otto sono tante tasse sull'otto vabbè paga le bollette lascia stare il bicchiere perché adesso andremo con Kiyoshi se resta qui ma mi sa che se ne sta andando cosa stai facendo? ma perché hanno questa cosa che vabbè non li capisco i sim hanno questa cosa che escono dal retro cioè passano per casa escono dal retro e vanno a correre vabbè senti Kiyoshi fai un po' quello che vuoi noi intanto andiamo alla parete d'arrampicata però ci andiamo da qui perché se no tutti vanno ai bagni ci portiamo i membri del club e prendiamo prendiamo la funiva la funivia questa volta eccoci e siamo abbiamo anche scelto il lotto più vicino alla funivia per cui può darsi che Misaki opti per questa casa quando dovrà cambiarla però seguiamola e prendiamo la funivia per la prima volta tutti insieme è anche vicino alla piazza cioè mi sembra una una locazione molto tattica per la nostra Misaki come come luogo abitativo ulteriore se mai riuscirà ad avere abbastanza soldi per comprare quel lotto vediamo se no mi sa che non si vede non riusciamo a vederli peccato peccato vabbè dove sei vediamo se riusciamo a seguirla tramite la telecamera cosa stai facendo ma che cos'è dai Misaki ah ok ah è un teletrasporto va bene ma perché stavi asciugando la neve scusa eh giusto per per sapere no perché allora qui abbiamo le piste quelle più avanzate perfetto che però noi per ora non possiamo fare invece quello che possiamo fare è arrampicarci qua per cui vieni qua vai qui insieme direi ci prendiamo cosino e sarà molto difficile mantenere la visuale in questo posto inizia la registrazione e accertiamoci delle condizioni della parete d'arrampicata un po' difficoltoso camminare qua eh dopodiché ci mettiamo l'attrezzatura d'arrampicata e proviamo ad arrampicarci una volta tenta l'arrampicata eh stavolta si eh stavolta siamo tra i pro tra quelli che scalano le pareti più alte quell'altra in confronto era una una bazzeccola e poi magari stasera portiamo Kyoshi a fare un giro per vedere se riusciamo a trovare gli spiriti della foresta si si chiamano così allora com'è sta parete ha probabilità di successo alta per cui tenta l'arrampicata tesoro e questi stanno qua vabbè l'importante è che siate ah perché non abbiamo iniziato il raduno eh infatti no restiamo qua e no infatti mi sa che non possiamo restare qua dobbiamo per forza andare ai bagni altrimenti si può fare una cosa di questo tipo togliamo il luogo del raduno nessuno così possiamo iniziare il raduno qua no non possiamo ancora non possiamo yuhu niente non non ci lascia vabbè ah la nostra misaki intanto è arrivata in cima ma cosino si è perso no è ancora lì calati e dove è finito cosino si è schiantato contro la parete avete visto già seguiti ok è la batteria quasi scarica dopodiché insomma adesso scendiamo perché lei era era attesa per il fatto che non stava andando ad arrampicarsi per cui cosino per favore se ci segui terminiamo la registrazione però ecco perfetto e abbiamo lasciato cosino su dobbiamo andare a riprenderlo arrampicata livello medio eh infatti dobbiamo andare su allora una volta arrampicati cautamente poi metti cosino nell'inventario e torniamo giù calati oh perfetto abbiamo sbloccato lo stile di vita energico andiamo agli stili di vita il pannello non si apre vabbè vediamo da qua che tra l'altro gli stili di vita sono stati introdotti con questa espansione allora abbiamo patita di tecnologia ok unitario va bene e amante dell'adrenalina attivo wow però io volevo vedere quello che abbiamo sbloccato vantaggi quando interagisce con la tecnologia qua conserva le buone amicizie più a lungo perfetto pochi ma buoni misaki pochi ma buoni amante dell'adrenalina è in corso va bene energica anche benissimo non è molto molto facile è l'arrampicata però al 76% completato ma vai un'altra volta cautamente così vediamo se riusciamo ad arrivare a livello 5 questi stanno qua a parlare no se ne sono andati ok ha deciso di andarsene calati vai tesoro festival distrarsi e disastri però non ci interessa cerchiamo di restare qua di goderci questi di festival anche se ne ho saltato uno cosa c'è amigumi chiedo ancora una volta il tuo supporto per il piano d'azione di quartiere giardinaggio verde sta per essere messo ai voti ma al momento si prevede che vincerà il piano scatena il tuo corpo e la tua mente non voto meglio così perché noi abbiamo scelto quello a noi interessa quello non ci interessa il giardinaggio anche se è vero che dobbiamo piantare i fiori che ci ha regalato kiyoshi allora a forma fisica stai guadagnando dove stai andando non metterti in pista arrampicati normalmente vai cosa c'è no misaki non ti far male lo so che avevo detto che non avremmo visto lei mentre si allenava però non posso farci niente tremo ogni volta che si allena perciò ma qua si può andare su questa parete perché continui a non a non guadagnare cioè a guadagnare forma fisica ma non arrampicata questa è una bella domanda no no 87 90 basta basta e una volta tenta l'arrampicata come come sono messe le nostre attrezzature sono ottime benissimo le stiamo indossando vero? sì sì perché in caso contrario non mi permetterebbe cioè mi permetterebbe di cliccarci sopra perfetto calati adesso tesoro ultima volta e poi andiamo alla foresta però prima mangiamo qualcosa ci sistemiamo un po' e poi cosa c'è? avete avuto un bel appuntamento con Marcus bene sono felice per voi sta perdendo fiducia per non so quale motivo per cui io direi che ha riflettuto sul consiglio e ha ragione aveva ragione Misaki ovviamente dovrei sempre fare ciò che mi rende felice così ho cambiato carriera perfetto adesso è il duro presso donne della mala era la carriera criminale non ci credo ma perché Akira ma perché spiegami questa cosa vabbè senti fatti tuoi fatti tuoi allora qua dato che non riusciamo a ricavare un punto che sia uno io direi che torniamo a casa andiamo a mangiarci qualcosa e poi invitiamo Kyoshi per una passeggiata serale e eccoci all'altro quartiere con Kyoshi il quartiere del parco purtroppo c'è ancora tempo ventoso ma speriamo di riuscire comunque ad andare a fare questa escursione ed incontrare qualche spirito perché vorrei anche completare quello step della sua aspirazione cioè mi capita sempre con i si sbagliati di riuscire a a trovare gli spiriti della foresta stavolta terrò gli occhi apertissimi per cui andate ragazzi io vi seguo vediamo se cioè Misaki sta contemplando Kyoshi con sguardo parecchio interessato forse un po' troppo interessato per trattarsi di un adolescente certo avranno lui tipo 18 anni e lei 20 per cui secondo me cioè è solo sulla carta che hanno età differenti perché per il resto secondo me sono non dico coetanei ma qualcosa di simile ecco spiritelli 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 no eh lo farei io questo percorso però sarebbe bellissimo raccontano barzelletta sì però mi sa che non ci sono gli spiritelli va bene dai Misaki vai perché il vento si riporta via secondo me è passato un uccello aspetta 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 cos'è questa cosa cos'è cos'è oh mamma mia uno di quegli di quegli strani insetti che cioè è grande quanto un gatto ma vabbè ehm spiritelli spiritelli perché potrebbero essere ovunque sulla strada e di solito compaiono più o meno in questo punto secondo la mia modestissima esperienza in questo quartiere perciò teniamo gli occhi aperti scusate probabilmente vi sta facendo venire il mal di testa a forza di ruotare la camera però va fatto va fatto cosa sta succedendo ecco cosa sta succedendo ce l'hai lo spray per quello tesoro o no e della faccia non ce l'ha non ce l'abbiamo voglio fare una foto per l'immagine di copertina perché è l'immagine di copertina perfetta scusate sì che ce l'abbiamo lo spray eh sì infatti più che un insetto sembra tipo un boa constrictor le dimensioni erano quelle però spiritelli nada non riesco a vederli niente ci è andata male tutto qua il giro avete proprio fatto il giro del parco e via basta qua dove si andrebbe tra l'altro non ne ho idea no però noi siamo entrati da qua giusto o c'è no c'è un'altra entrata ok quindi in teoria vabbè è la stessa cosa entrare da qua giusto quasi non del tutto facciamo un'escursione al santuario montano con kiyoshi proviamoci di nuovo ah ok continuate per questa via va benissimo ma kiyoshi dove ha finito ah sta andando dall'altra parte ok va bene fermati fermati ferma 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 esprimi un desiderio sentite che cantano che cos'è questa cosa sono gli insetti prendi la luna mai esprimi un desiderio tesoro prima che scompaiano mamma mia è difficile perché cioè i simi si distraggono continuamente ma ciao che carini che siete mi presento sono misaki e mio nonno era di queste parti ed è un piacere oh fare la vostra conoscenza percependo la sincerità aspettate che abbiamo abbandonato kiyoshi nel frattempo a farsi l'escursione da solo per cui continua fai un'escursione nel santuario montano con kiyoshi perfetto così intanto ci leggiamo questo percependo la sincerità dell'intenzione di misaki lo spirito della foresta sembra soddisfatto misaki senti avere qualcosa di pesante in tasca e vi trova cento simoleon le saranno di sicuro utili sì sì va tutto per la la nuova casa che costerà un occhio della testa per cui non so se riusciremo ad arrivarci però diciamo che ci conto perfetto vediamo questa escursione come va però in teoria l'abbiamo già abbiamo già completato questa pietra migliare adesso dobbiamo percorrere una pista intermedia o per esperti sulle sci o sullo snowboard ad alta intensità raggiungere la vetta del monte komorebi ok per cui anche sci e o snowboard ci servono raggiungi la vetta del monte komorebi sopporto un infortunio riportato andando sullo sci sullo snowboard o arrampicandoti dobbiamo procurarci un infortunio benissimo mi fa piacere vai sugli sci sullo snowboard e ad arrampicarti finché non riporti un infortunio è più probabile riportarne uno tentando una discesa ad alta intensità o un'azione difficile va bene kioshi se ne sta andando lei viene attaccata da millemila lui scappa a questo punto scusa ma questi mi fanno schifo lei viene attaccata da millemila insetti e si e lo so tesoro è stata ferita benissimo perfetto niente senti torniamo a casa va che è anche l'ora di non abiti di andare a letto azioni sciogli il gruppo eh lo so tesoro andiamo a casa no non prendere la luna ho visto che stavi cercando di prendere la luna andiamo a casa e via e casa dolce casa per cui si morso doloroso a disagio più due per otto ore e vabbè tesoro dobbiamo comprare altri altre cose vai a dormire io direi che terminiamo qua questo episodio però restate fino alla fine del video perché negli ultimi secondi potete trovare delle miniature interattive che vi portano direttamente ad altri video che potrebbero interessarvi per cui restate io intanto vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione lasciate un bel like se il video vi è piaciuto iscrivetevi se siete nuovi aiutatemi ad arrivare a 2500 iscritti e attivate la campanella mi raccomando lasciate dei commenti per farmi sapere come secondo voi dovremmo procedere per quanto riguarda la situazione Akira barra Kyoshi sono molto curiosa di sapere la vostra e quindi detto questo vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti